buongiorno a tutti benvenuti consueto aggiornamento su bitcoin ethereum e solana ovviamente analisi ciclica per la giornata di oggi andiamo a cancellare come sempre tutto ciò che ormai non serve più perfetto come possiamo vedere qui siamo su bitcoin sta seguendo perfettamente le previsioni abbiamo la fase ribassista con il minimo giornaliero che ha vedrà il suo minimo intorno alle 19 grosso modo ok il picco invece è previsto intorno alle 6.30 era previsto quindi sostanzialmente siamo ormai belli che arrivati al picco ok il mercato sta effettivamente girando ovviamente per quanto riguarda l'operatività avremo il livello da attenzionare che sarà l'area per quanto adatta h1 con la rottura dei mimi di 65.859 nessuna operazione longa varrà presa in considerazione perché dal punto di vista ciclico siamo assolutamente in una fase ribassista devo vedere adesso ethereum ethereum differenze di bitcoin è già arrivato ormai su il suo minimo ciclico anche qua andiamo a fare la cancellazione abbiamo solo questo che rompe un po' le scatole e siamo posizionati mi avviso leggermente diversamente per quale motivo allora beh innanzitutto siamo sul minimo ciclico quindi parliamo di una tempistica completamente opposta quindi su base statistica in questo caso l'operatività dovrebbe vedere i mercati stornare siamo sempre all'interno di una fase di trading di fondo che è ribassista perché lo possiamo vedere il minimo è previsto per il 24 alle 2 di notte quindi siamo ribassisti però in questo momento su base statistica un movimento del genere quello che vediamo con la sinusoglio sostanzialmente è ciò che ci potremmo aspettare ok quindi che cosa che cosa fare prendere un rialzo in realtà tempo ce n'è fino alle 17 30 certo che se guardiamo i livelli ovviamente il primo livello utile sarà la rottura di 3560 in questo momento quindi per quanto riguarda ethereum direi che siamo completamente fuori completamente senza tempo per poter cioè abbiamo un sacco di tempo probabilmente troppo per poter arrivare a vedere generata un'operatività rialzista quindi direi che per quanto riguarda ethereum si può stare serenamente fermi oppure puoi scendere di time frame volendo andare veramente a cercare eventualmente a cercare delle indicazioni per un rialzo in tre day ok quindi per il picco cioè per il rialzo del ciclo giornaliero andarlo a cercare su un time frame inferiore con il metodo che sempre vi spiego per quanto riguarda Solana siamo piazzati esattamente come su bitcoin quindi siamo in procinto di vedere iniziare una fase ribassista e in questo caso abbiamo però il prezzo sopra le medie mobile ciche che quindi al momento non è ancora da prendere in considerazione un ribasso sarà utile prenderlo a 170 38 come sempre vi dico arrivati su questi livelli ciò che bisogna aspettare su un time frame inferiore e che mercato compia questo movimento che è quindi falso breakout vado a tornare sopra al livello di minimo e allora poi si può andare a prendere con un ragionevole sicurezza la fase di ribasso come sempre ti invito a guardare il mio sito il tradingpertutti.com i servizi disponibili sono dal 2007 sui mercati quindi qualche annetto di esperienze me ne sono fatta e ti invito a cliccare sui dettagli guarda bene l'indicatore volt time valutarlo bene ti suggerisco di provarlo verrà inserito nel canale telegram e gratuito riservato a chi utilizza per far sì che tu possa trarre quei mega vantaggi pazzeschi che solo l'indicatore volt è in grado di dare perché è l'unico strumento che prevede e che ti proietta nel futuro il movimento del mercato e quindi ti anticipa quella che sarà la struttura del mercato con anche gli orari in cui questa struttura verrà rotta otterrà per poter quindi trarre tutti i tuoi benefici anche se sei un trader di struttura dei mercati con questo direi che è tutto ti auguro una buona giornata ciao ciao